Grazie a tutti ascoli vittorio un'esplotico 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 uno sta per 5 e un'esplotico un'esplotico Sì, sono andes e il trento e il trento grafico, ma sono state per 5. Siamo in posizione. Siamo in 4, non, magari non sono in 6. Siamo in 5, ma non sono in 6. 6, non è in 6. Siamo in 5! Siamo in 5! Siamo in 5! Grazie a tutti. Grazie a tutti.